ciao fabio grazie per averci ospitato al tuo stand a bologna in fiera appunto dedicata al freddo dimmi pure ringraziamo noi voi perché ci avete dato la possibilità di attrarre più clienti possibile in questa fiera che è improntata appunto come dicevi sul freddo quindi la clientela è una clientela prevalentemente maschile alla quale piace sicuramente la guida sportiva noi esponiamo un'attrezzatura che non attira solitamente le persone perché esponiamo scaffalature per usare frigorifere ci avete dato una grandissima mano a tirare persone all'interno del nostro stand ci siamo prefissati degli standard di una cinquantina di persone al giorno secondo me l'abbiamo tranquillamente superato li abbiamo conosciuto tramite i social social network non ricordo esattamente se facebook o instagram ma li abbiamo conosciuto tramite queste piattaforme siamo estremamente contenti del servizio il simulatore bisogna provarlo per avere una reale trasmissione di sensazioni ma sicuramente di eccezionale ok quindi per quello che hai provato tu e per quello che hanno provato i tuoi clienti sei abbastanza appunto da quello che ho capito soddisfatto di conseguenza ci consiglieresti un'azienda di questo ti ringraziamo ma che grazie a voi io sono un estremo appassionato di macchine soprattutto di porsche mi avete dato la possibilità di correre su più circuiti con la mia macchina preferita che non possiedo e quindi vi ringrazio finitamente sarà un altro dei tuoi obiettivi assolutamente un altro dei tuoi obiettivi voi farete parte perché ti aiutiamo a raggiungerlo esatto farete parte se dovresti darci cioè secondo te i nostri punti di forza al servizio sicuramente nel senso che noi non avendo esperienza in questo settore dell'assimilazione ci siamo affidati a voi al 100% ci siamo fatti consigliare la tipologia di simulatore più idonea ad un evento turistico ci siamo appoggiati voi in tutto anche sotto l'aspetto logistico quindi non abbiamo dovuto pensare a nulla assolutamente a nulla siamo estremamente estremamente soddisfatti anche il pacchetto il pacchetto di auto che avete è estremamente grosso estremamente grande il pacchetto di circuiti ottimo grazie fabio a questo punto arrivederci e alla prossima ciao